Demotivato, mollo, ma che mollo? Ma che cosa dite? Mollo che? Ma che mollo? Ma quale mollo? Cioè cosa vuol dire mollo qua? Non capisco io. Ma con questo non è che sono un mollo. Mollo, se uno resiste a 21 anni a questi livelli qua, non credo che sia tanto mollo. Un po' di rispetto anche lì, che mollo? Siete molli voi quando dite queste cose qua? Perché vi fa comodo dire queste cose qua, che uno è mollo. Non sono mollo. Quale mollo? Ci mancherebbe. Se sei mollo non fai questa attività qua. Se sei mollo non vai da nessuna parte. Ok? Mollo non lo sono. Mollo saranno gli altri. Vi fa comodo dire che sono mollo. Qual è il problema? Perché uno dice mollo? Ma è mollo che? Siamo pazzi qua. Molli non siamo. Chi fa questo mestiere non è mollo. Assolutamente non può essere un mollo che fa questo mestiere qua. Ok? Chi dice che sono mollo non ha mai detto una volta che noi, il nostro attaccante titolare, era Ze Edoardo nel progetto nostro. Avete sentito una volta che mi sono lamentato? Il mollo? Avete sentito il mollo che si lamenta? No. Vuol dire che non sono mollo. Il mollo dice un'altra cosa. Eccolo qua. Questo vi dice quello che voi dite che è mollo. Non sono mollo. Litigo a casa, litigo con tutti, non sono mollo neanche qua. Anzi, sono più nervoso di tanti altri magari. Io sono fatto così, sono coraggioso, non sono un mollo. Anzi, sono più nervoso. Anzi, sono più nervoso. Anzi, sono più nervoso. Anzi, sono più nervoso. Anzi, è più nervoso.